E' la prima bottega italiana di Coldiretti, la prima di una catena di punti vendita che si estenderà a breve in Puglia. Si parte da San Giorgio Ionico nel Tarantino. Nella bottega solo e soltanto prodotti locali a chilometro zero o quasi. L'obiettivo è quello di sempre, far conoscere ai consumatori i prodotti locali che non trovano spazio perché scarsamente pubblicizzati dalla comunicazione di massa, nei grandi centri commerciali e nei circuiti televisivi e della stampa nazionale. L'orientamento del consumatore deve cambiare con la consapevolezza che i nostri prodotti pugliesi e delle nostre regioni meridionali in genere sono oggettivamente più genuini e più convenienti. Comprendere questo significa un doppio vantaggio reciproco per i consumatori che risparmiano e mangiano genuino e per i produttori che possono crescere. Consumare prodotti stagionali è da chilometro zero, sottolinea Coldiretti. Questo è il primo nastro che viene tagliato. Ne seguiranno altri dopo San Giorgio Ionico.